Buon Natale, ha portato dei regolini Nonno Ah il nonno è, è stato il nonno Bene, andiamo a spacchettarli Intanto ci presentiamo, buongiorno Io sono Detta E tu sei? Ma siete bellissime con queste treccine Esatto Aspetta che ti scodincio Vediamo E allora bimbe Voglio vedere che cosa ha portato Della buon Natale Guardate Questo è il mio Scusate ma sono uguali Perché li tigate? Qui c'è scritto Erin Ah ok ok Va bene E allora iniziamo a spacchettare Riesci? Sì Allora aspetta un secondo che ti aiuto Ti aiuto io Due, uno Va bene Wow E allora abbiamo questi colori Con questo personaggio squishy Vi è stato regalato un unicorno Guardate che morbido Wow Sabina è la tua maglietta Erin Incredibile Super spasso Lo voglio fare con me Cosa succede? Cosa succede? Che noi possiamo colorarlo E lo laviamo E ritorniamo Esatto Questi colori sono super lavabili Perché la sbabama Fa appunto tutte le cose lavabili Vedi? Questi sono i vari personaggi Che potevamo trovare E poi abbiamo trovato lei Che si chiama Katie Katie Bellissima Katie Coloriamola La coloriamo a Katie? Yes Ok Allora apriamo i colori Aiuto Tu l'hai aperto? Brava Già Greta inizia a colorare Aspetta Erin Lo tengo io Cosa? Questo Si è spezzato Ok Non ce l'ho fatta Ma qui mi fa fare Dura così potente Certo Benissimo Allora Erin Scegli un colore Scegli un colore Scegli un colore Facciamo tipo Le zampine Le colore di un colore Colgo con la plastica Le zampe le voglio fare Di questo colore Va benissimo Vediamo Se mi sono sporcate le mani Me le posso ne lavare Certo Perché non ci sono lavabili Quindi anche se ti sporchi Non ci fa niente E anche lavaglio Certo Sì sì Nessun problema Ecco la prima zampa Brava Molto carina Vediamo tu Greta Dove sei arrivata? Qua 60 Ok Perfetto Quindi tu sei col verde acqua Mentre Erin Ha colorato le zampine Di questo viola Perfetto Molto brava Sto facendo una metà Ok Così facciamo Di un colore diverso Ok Tu puoi colorare come vuoi Greta Anche perché poi facciamo la prova Quindi coloramolo benissimo Pieno pieno Perché poi dobbiamo fare la prova A lavarli Adesso è rosa Ok È rosa come te Che sei tutta pink Io sono Io prendo il suo colore Un po' più grande Dietro Adietro C'è Quanto bel guarda Chi L'ho La C'è La colora Guarda come l'ho fatto Bellissimo Brava Adesso faccio il suo sorrisetto Ok Che è senza buc E poi Guarda che sorriso Brava Vero Molto sorriso Ti piace? Vai sì Lo sto colorando Tutto Tutto Sto colorando Tutta la sua pelle Ok Ok Un conno Colore Tutti i colori Tutto 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 Grazie a tutti. 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 Dovete colorarlo avanti e dietro anche perché come vi dicevo dobbiamo andarlo a fare molto bene perché dobbiamo andarlo a lavare. È vero. È molto squishy. Ecco la nostra Katie. Ma si può anche fissare bene? Sì, no, no, questo è tuo. Comunque è uguale. Katie, 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 Katie. Greta, tieni il tuo Katie. Dopo lo coloriamo anche dietro. Potete colorarlo come volete voi. Roba di questo. Sì, ok, ok, certo. Ok, tu hai finito? Sì. Ok, aspettiamo Greta che finisce così. E adesso io coloro il mio cuore. Aspetta, prima dobbiamo andarlo a farlo lavare questo. Dobbiamo andarlo a lavarlo e squishare. Io lo voglio squisciare. Vediamo squiscia. Wow, wow. L'unicorno è un po' bianco, quindi l'ho lasciato un po' bianco. Ok, va benissimo. Alzate le maniche per andare a lavare il nostro, i nostri unicorni, la nostra Katie, per vedere, si sta togliendo? Il mio si sta togliendo. Ok, quindi effettivamente sono molto lavabili. Guardi, io sto ripetendo la traccia. Forza, forza, non spieghiamo acqua. Spieghiamoci. Stanno tornando bianchi? Più o meno? Sì. Sì, wow. Sono super squishy. Bellissima, vediamo, strizzateli, strizzateli. Strizza, strizza, strizzate. Vediamo, strizzate. C'è il sapone. Wow, vediamo, vediamo. Questo è mio. No, è sapone. No, più che altro. Vediamo, aspetta, scusa, Erin, farmi dare una prova. Ok, no, non esce il sapone, in teoria. Ragazzi, ma è bellissimo questo gioco. Certo. Sotto le coperte. Sotto le coperte adesso si va. Vediamo una bella bussetta, ragazzi, guardate. Bellissima. Guardate il mio icono. Allora, le nostre bimbe stanno continuando a colorare perché si stanno davvero divertendo con i nostri squishy. Com'è? Vi è piaciuto? Bellissima. Quindi qua stanno continuando a colorare, come potete vedere. Però nel frattempo noi vi salutiamo? Erin. È molto bello. Cioè, questo qui è molto bello. Ovviamente. Quindi, Erin, cosa dobbiamo dire? Cosa diciamo ad esempio quando salutiamo i bimbi? Ciao da baby Zuuu. Da Erin, Greta e Zuuu. Che è stato qui dietro. Ciao bimbi. Ciao. 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 Ciao.